Il TED è questa nuova figura professionale che può venire da diversi campi, può venire dal campo del volontariato, dal campo sociale, dal campo dell'ingegneria e avere un diverso background che seguirà una formazione mista tra l'ambito sociale e l'ambito tecnico e andrà ad implementare delle azioni pilota di supporto ai consumatori vulnerabili. Il TED è un tutor per l'energia domestica che quindi andrà ad aiutare un consumatore vulnerabile ad analizzare i suoi consumi e a capire come consumare, se non meno, almeno meglio, quindi ridurre almeno il costo economico dell'energia che vede in bolletta. Le azioni possono essere di vario tipo, diciamo che cercheremo di stabilire un primo contatto attraverso eventi ad ampio spettro della tipologia Energy Caffè che è molto utilizzata ad esempio in Gran Bretagna e poi andremo a selezionare i consumatori vulnerabili all'interno dei partecipanti a questi eventi e a cercare di aiutarli a compiere un percorso virtuoso di miglioramento dei consumi. Ci sarà anche la possibilità per alcuni TED magari provenienti da associazioni consumatori piuttosto che da altre realtà in cui esiste già uno sportello o un servizio di assistenza ai clienti, di venire direttamente in contatto con il consumatore attraverso questi sportelli di assistenza e quindi fornire un supporto più mirato e su richiesta diretta del consumatore interessato. Dopodiché i TED, a seconda della loro provenienza e delle loro capacità, potranno supportare il consumatore anche in alcune azioni come la richiesta dei bonus, spiegargli quali sono i documenti necessari e come ottenerli per ottenere certi incentivi e se sarà possibile, almeno per alcuni consumatori, vorremmo anche misurare i loro consumi quindi fare un'analisi più approfondita dei loro consumi e verificare come avranno risparmiato e quanto avranno risparmiato o in termini energetici o in termini economici, auspicabilmente in tutti e due i termini, grazie all'azione del TED.